Si impregna delle mie emozioni. Che cos'è la psicometria? Commento. Il computer con cui scrivo queste note si impregna delle mie emozioni, sensazioni, pensieri, perché il frammento di macrocosmo che si chiama computer ed il microcosmo che io rappresento siamo inseriti nelle stesse scene senza tempo e congelate nell'eterno presente. Se un giorno un sensitivo si metterà in contatto con il mio computer, questo incontro potrà diventare un fenomeno di psicometria, una lettura paranormale della storia psichica che il computer sarà assorbito nella vita unica che respira in tutto l'universo.